Condanne pesanti dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti della nuova generazione della potente cosca d'indrangheta regina, Libri. Si è concluso, infatti, ieri pomeriggio nell'aula bunker il processo corrito abbreviato scaturito dall'operazione denominata Teorema Roccaforte. Il GUP ha inflitto 12 condanne, con penne che hanno toccato anche i 20 anni di carcere per complessivi 127 anni e mezzo di galera. La pena maggiore, 20 anni di reclusione, come nelle previsioni della vigilia, trattandosi della figura nevralgica dell'indagine dell'antimafia, è toccata a Filippo Chirico, colui che avrebbe ricoperto il ruolo di capo clan. Severo il conto che la giustizia ha presentato anche a Riccardo Artuso e Gaetano Tomaselli, 10 anni, 14 anni invece di carcere per Angelo Chirico, il figlio del capo. Per gli altri, la condanna è andata da 10 a 2 anni. Complessivamente, c'è il filone con rito ordinario, già fissato davanti al tribunale collegiale, sono 22 le persone sotto accusa nell'inchiesta Teorema Roccaforte, per aver ricoperto un ruolo nell'andrina che ha frazionato Cannavò, la storica Roccaforte. Le ipotesi di accusa sono a vario titolo, associazioni tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso, ma anche intestazione e fittizia di beni, violenza privata e altri reati.